buongiorno massimo manca remax abacus guardate che tramonto mettiamo qualcuno si colleghi ecco qua abbiamo una persona guardate che tramonto siamo qua in via baldedda 14 quella che vedete qua è la zona di sassari 2 davanti abbiamo un sacco di verde quella che vedete in fondo non so se riuscite a intravederla è il golfo dell'asinara con l'asinara si intravede un po tutta la zona commerciale di sassari industriale e in fondo questo è il sole che sta andando ad aggiarsi questo è quello che potrete godere la vista che potrete godere da questo splendido appartamento di 140 metri quadri scusate da questa ampia terrazza abitabile condividetelo l'immobile e visibile sul nostro sito e questo è un po' lo skyline di sassari un saluto massimo manca remax eccomi qua ci troviamo qua alle mie spalle vedete la vista spettacolare davanti praticamente il niente dove potete godere di luce la sala quest'ora è luminosissima è un doppio salone e oltretutto massima privacy massima privacy perché fondamentalmente qua avete uno spettacolo davanti a voi uno spettacolo della natura che non andrà a cambiare come moltissime parti di sassari se stai cercando quindi un buon panorama e degli spazi ampi classico appartamento con tre stanze da letto due bagni ripostiglio ampio cucina abitabile quattro balconi di cui questa è la terrazza più grande non esitare condividi questo video qualche amico potrebbe essere alla ricerca di un immobile di questo tipo e li staresti facendo una grossa cortesia oltretutto c'è un garage di 20 metri quadri disponibile al piano è una cosa particolarissima abbiamo che grazie dell'edda è molto scassa i posti auto qua abbiamo un'ampia zona parcheggio vi faccio vedere di posto auto ecco qua disponibile anche per i vostri ospiti un vantaggio che hanno queste che ha questo tipo di cooperativa e questa è la vista che vi troverete davanti se non stai cercando questa vista non chiamarci se non stai cercando un appartamento ampio luminoso con tre esposizioni tre affacci quattro balconi non chiamarci ovviamente un appartamento che richiede è un appartamento che richiede della ristrutturazione per cui ovviamente il prezzo che vedete in pubblicità è un prezzo per l'immobile così com'è competitivo perché abbiamo analizzato il mercato e lo potremo fare anche per te se stai cercando di vendere la tua casa e non riesci per capire a quanto stanno vendendo le case nella tua zona è una tipologia che ovviamente è impegnativa per via della ristrutturazione appunto ma comunque è una tipologia che potrai visti chiari di luna del mercato ottenere più a lungo sicuramente di comprarti una casa con due camere da letto per esempio e l'autorimessa sicuramente aiuta ecco qua vi lascio di nuovo con questa vista del panorama vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti ciao